gloria a dio signore buono fratelli il signore buono io questa sera lo non posso fare a meno di ringraziarlo il mio signore perché ci ha donato la sua meravigliosa presenza io questa sera posso dire che sono nella gioia perché ho gustato ancora una volta la benedizione di stare alla presenza di dio e questa sera sono contento sono gioioso di poter stare in mezzo a voi e di poter avere il privilegio di condividere qualcosa dalla parola di dio che non è mai un messaggio banale non è mai un messaggio scontato ma un messaggio potente che può cambiare le nostre vite e allora questa sera vi chiedo fratelli e sorelle di leggere insieme a me nel libro degli atti degli apostoli al capitolo 16 vorrei che leggessimo dal verso numero 25 un racconto che probabilmente molti di noi conosciamo sicuramente ma che anche questa sera il signore voglia usarsene per parlare ai nostri cuori atti degli apostoli capitolo 16 versetto 25 addio sia la gloria verso la mezzanotte paolo e sila pregando cantavano vigna dio e i carcerati li ascoltavano a un tratto vi fu un gran terremoto la prigione fu scossa dalle fondamenta e in quell'istante tutte le porte si aprirono e le catene di tutti si spezzarono il carceriere si svegliò e vedute tutte le porte del carcere spalancate sguainò la spada per uccidersi pensando che i prigionieri fossero fuggiti ma paolo gli gridò ad alta voce non farti del male perché siamo tutti qui il carceriere chiesto un lume balzò dentro e tutto tremante si gettò ai piedi di paolo e di sila poi li condusse fuori e disse signori che debbo fare per essere salvato ed essi risposero credi nel signore gesù e sarai salvato tu e la tua famiglia poi annunziarono la parola del signore a lui a tutti quelli che erano in casa sua ed egli li prese con sé in quella stessa ora della notte lavò loro le piaghe e subito fu battezzato lui con tutti suoi poi li fece salire in casa sua apparecchio loro la tavola e si rallegrava con tutta la sua famiglia perché aveva creduto in dio alleluia in questi versi fratelli e sorelle possiamo trovare tanti insegnamenti ma questa sera lo spirito santo mette nel mio cuore di soffermarci insieme su un aspetto di questi versi che a me hanno colpito in maniera particolare sappiamo tutti fratelli e sorelle che le nostre vite chiunque ha potuto gustare la grazia di dio sa che la nostra vita è preziosa agli occhi del signore perché la nostra vita è preziosa agli occhi del signore ebbene perché è costata il sangue di Cristo Gesù sulla croce ameno fratelli il signore Gesù ha versato fino all'ultima goccia del suo sangue su quella croce per riscattare le nostre vite le nostre anime dalla morte per donarci la vita eterna ebbene questa sera però vorrei soffermarmi sulla figura di un uomo di cui non ci viene detto nemmeno il nome ma che viene semplicemente identificato come il carceriere quest'uomo che aveva in consegna aveva ricevuto in consegna paolo e sila e che aveva ricevuto nei versi precedenti lo possiamo leggere un un ordine ben preciso quello di sorvegliarli attentamente quindi lui aveva ricevuto quest'ordine ebbene compie il suo lavoro mette questi due prigionieri nelle proprie carceri li attacca ai ceppi però poi a un certo punto vediamo che succede qualcosa di straordinario dio interviene mentre gli apostoli stanno cantando e pregando questo terremoto fa aprire tutte le carceri le catene si spezzano e qui leggiamo un piccolo particolare che il carceriere si svegliò si svegliò quindi una persona che stava dormendo non sembra una persona che sta svolgendo bene il suo compito cioè quello di sorvegliare attentamente questi prigionieri ebbene lui cosa fa vede questo trambusto io mi mi immagino quello che può essere passato nella testa di quest'uomo all'improvviso si sveglia e scopre che tutto quello che lui doveva fare che il compito che aveva ricevuto quello che era il suo lavoro quella che era la sua posizione quella che era la sua mansione ebbene in questo egli aveva fallito e quindi per paura probabilmente di una ritorsione per paura di una punizione quest'uomo decide di fare una scelta la scelta estrema di sguainare la spada per togliersi la vita ebbene fratelli questo è un gioco demoniaco non so quanti di voi è successo però io posso dire che a me è successo quello di pensare che a un certo punto la mia vita non valesse nulla quello di pensare che la mia vita non avesse nessuno scopo di esistere perché magari avevo commesso degli errori perché magari ero venuto meno perché magari avevo deluso coloro che mi avevano dato un compito importante ebbene posso immaginare che tutti questi sentimenti in quel momento le abbia vissuti quest'uomo e chi come me si può identificare in quest'uomo può capire l'angoscia che si può provare nel fallire amaramente nel venir meno in un compito che ci è stato assegnato magari venir meno anche semplicemente o meglio venir meno in un compito come essere un padre di famiglia come essere un figlio come essere membro della società ebbene lui decide di prendere una scelta sapete alcune delle nostre scelte sono rimediabili ma ce ne sono alcune che invece hanno delle conseguenze che sono eterne e la scelta che stava per prendere quest'uomo aveva sicuramente una conseguenza eterna presa in quel momento perché lui stava considerando la sua vita meno importante di tutti i compiti ai quali egli era venuto meno quindi lui stava per togliersi la vita perché l'aveva considerata meno importante di quello che che stava facendo dei compiti che lui non aveva non era riuscito a svolgere ebbene fratelli in quel momento arriva e gloria a dio per questo la voce dell'apostolo paolo che grida e dice non farti del male perché siamo tutti qui ebbene se questa sera in mezzo a noi fratelli c'è qualcuno che magari ha pensato che la propria vita non fosse all'altezza di quello che era stato chiamato a fare o non fosse all'altezza proprio degna di esistere in questo mondo la voce del signore questa sera dice fermati perché la tua vita è importante non commettere gesti che potrebbero avere delle ripercussioni eterne e dopo di questo fratelli e sorelle guardate che come reagisce questo carcere la prima cosa che fa chiede un lume perché fratelli quando noi siamo nelle tenebre quando noi siamo offuscati dalle tenebre non riusciamo a vedere bene e possiamo prendere delle decisioni appunto che possono distruggerci e quindi la prima cosa che fa una cosa saggia è quella di chiedere un lume quindi vuole iniziare a vedere meglio la situazione e subito dopo il suo atteggiamento inizia a cambiare perché da colui che avrebbe dovuto tenere sotto scacco queste persone inizia ad entrare tutto tremante quindi mi sembra strano no considerare che è una persona che deve avere una certa anche autorità no verso queste persone diventa tremante ai loro confronti e si inginocchia ai piedi di paolo e sila quindi cambia completamente il suo atteggiamento ed è quello che tutti coloro che hanno sperimentato la meravigliosa grazia di gesù possono dire con me questa sera che noi un giorno abbiamo fatto un passo verso il signore siamo andati verso di lui spogliando noi stessi di tutte le nostre convinzioni di tutte le nostre idee di tutto quello che noi consideravamo forse potesse essere giusto e ci siamo semplicemente gettati ai piedi del signore abbiamo fatto una domanda una domanda giusta una domanda che subentra quando noi ci mettiamo nella giusta posizione quella di dire cosa devo fare signori per essere salvato ebbene questa è la domanda chiave che dobbiamo porci perché questa domanda cambia realmente tutto il modo in cui noi consideriamo e vediamo la nostra vita ebbene gli apostoli danno una risposta meravigliosa credi nel signore gesù e sarai salvato tu e la tua famiglia e vedete pian piano inizia a prendere corpo a prendere visione quello che è ciò che dio vuole da noi nella nostra vita dio non considera le nostre vite allo stesso prezzo di quello che la società vuole farci credere che esse valgano non considera che le nostre vite sono importanti come dei compiti che non siamo riusciti a svolgere o come qualcosa in cui siamo venuti meno o degli errori che abbiamo fatto ma il signore considera la nostra vita importante perché la nostra vita ha un valore nel servizio che Dio vuole che noi facciamo a lui perché subito dopo vediamo che questo carceriere li fece salire in casa sua parecchio loro la tavola e dopo che aveva accettato il signore e si fece battezzare iniziò a lavare loro le piaghe perché nel capitolo precedente vediamo che gli apostoli erano stati fortemente battuti quindi erano stati percossi avevano sofferto e quel dolore era stato proprio inferto da queste persone quindi il carceriere inizia a porre rimedio vedete molto spesso in questi giorni parlando con dei ragazzi che sono con noi loro iniziano a pensare iniziano a perdersi in questi pensieri iniziano a dire gli errori che ho fatto non hanno rimedio gli errori che ho fatto non hanno una soluzione gli errori che ho fatto io me li porterò per sempre perché sono troppo grandi ebbene questa sera il signore ci dice che non è così perché in cristo gesù con la nascita con la nuova nascita con la salvezza la nostra vita acquista un valore diverso perché il signore la usa per la sua gloria la usa perché ci mette al suo servizio e la usa perché noi consideriamo che non valiamo più quel compito che eravamo eravamo chiamati a fare in questo mondo ma la nostra vita ha valore per un compito che dio ci chiama che ha un valore eterno e allora questa sera io voglio dire se c'è in mezzo a noi qualcuno che considera la propria vita ricca di fallimenti io lo posso dire che la mia vita è stata ricca di fallimenti ricca di delusioni nei confronti delle persone che mi hanno che mi hanno dato fiducia che mi hanno voluto bene ricca di sbagli di errori ebbene non è così questa sera per il signore perché questa sera in mezzo a noi c'è Gesù e questa sera il signore ci dice se tu hai fatto degli errori se hai commesso degli sbagli fai la giusta domanda fai i giusti passi poniti a me nelle giuste maniere ebbene io questa sera ti darò una nuova vita darò uno scopo nuovo alla tua vita darò un senso alla tua vita io ti metterò al mio servizio ebbene l'ultima parte di questa breve riflessione fratelli la vorrei dedicare a chi magari io ho accettato il signore io conosco la verità ho realizzato nel mio cuore la salvezza perché dovrei pensare di commettere dei gesti estremi o pensare che magari io meriti la morte no perché io so che Gesù mi ama io posso testimoniare anche questo fratelli che pur da credente io mi sono sentito una completa nullità davanti a dio a volte noi sottovalutiamo questo magari pensiamo che i credenti non abbiano paure non abbiano mancanze non abbiano mai dei momenti di scoraggiamento ebbene io posso testimoniare sulla mia vita che non è così quindi questa sera sia anche tu che hai accettato il signore che sei credente che serve il signore sei in un momento di scoraggiamento sei in un momento in cui pensi che i tuoi errori abbiano deluso il signore tanto da non essere più recuperabili magari stai pensando il signore perché dovrebbe perdere nuovamente tempo con me che l'ho deluso così tante e tante volte ebbene questo non è un pensiero che è contemplato da parte del signore perché dio anche questa sera ancora una volta questa sera è pronto a ridarci nuove forze nuovo vigore e a ricordarci che la nostra vita ha un peso importante ha un valore importante perché noi siamo al servizio del re dei re del signore dei signori e voglio concludere con un verso a me molto caro fratelli la nostra vita è preziosa e noi la vogliamo perdere perché quest'uomo stava per perdere la sua vita ma noi la vogliamo perdere la nostra vita ma non la vogliamo perdere perché non la consideriamo di valore noi la vogliamo perdere perché gesù disse un giorno che chi perderà la sua vita ebbene allora la troverà allora la guadagnerà ma chi vorrà amerà la propria vita allora la perderà quindi questa sera l'invito è perdi perdi la tua vita ma non la perdere secondo i canoni che questo mondo magari vuole dirti secondo il valore che questo mondo vuole attribuire alla tua vita ma perdila perdiamola ai piedi del signore gesù colui che la prenderà tra le sue mani e la userà in maniera meravigliosa e gloriosa al suo servizio per la sua lode e gloria perché lui è il benedetto ora e in eterno a dio sia la gloria